Sono complessivamente 23 e 18 in carcere, 5 e domiciliare le persone arrestate nell'operazione colombiani da Spromonte condotta stamattina dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria sotto le direttive delle procure delle Repubbliche di Locri e Palmi. I militari hanno anche notificato quattro obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria mentre tre minori coinvolti anche loro nell'operazione hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini. L'operazione è scaturita da un attento monitoraggio dell'area Spromontanea ricadente nei territori di San Luca e Delia Nuova ed ha preso spunto nel 2013 dall'individuazione di una vasta piantagione di canapa indiana in alta montagna nel comune di San Luca. Successivamente nel corso dell'attività investigativa sono state trovate altre numerose piantagioni di canapa ubicate in alta montagna, cospicui quantitativi di sostanze stupefacenti già confezionati e pronti per la vendita e veri e propri arsenali di armi all'interno di casolari ed ovili riconducibili a persone ritenute contigue le cosche degli strangio detti Yanchi e dei Giorgi coinvolte nella cosiddetta faida di San Luca. Già nel corso dell'attività di indagine erano stati effettuati numerosi arresti in flagranza e sequestre di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti nonché di numerose armi da fuoco. Grazie. 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 Grazie.